Come si conquista una ragazza online? Perché non rispondono? Funziona la seduzione online? Mentre navigli online ti capita di vedere una ragazza bellissima, le invina richiesta da amicizia e intanto la tua mente inizia a pensare quanto sarebbe bello uscire con lei. Sfogli le sue foto continuando ad apprezzare la sua bellezza, vorresti mandarle un messaggio ma qualcosa ti frena. Inizia a pensare cose del tipo, ma figurati se una così uscirà con me, sicuramente sarà già fidanzata oppure non mi risponderà mai. Dopo varie resistenze decidi di mandarle un messaggio e nel frattempo aspetti un'ora, due ore, tre ore e lei ancora non risponde e sai già che questa risposta non arriverà mai. Allora inizia a pensare che le ragazze se la tirano troppo e che la seduzione online non funziona. Ti suona familiare? Non preoccuparti, non sei l'unico a pensarla così. Decine di ragazzi ci scrivono ogni giorno per chiederci se la seduzione online funziona. Certo che funziona se sai come farlo, rispondiamo noi. Ecco perché dopo aver accumulato centinaia di richieste sull'argomento, abbiamo deciso di creare il metodo come sedurre una ragazza online. Se desideri padroneggiare l'arte della seduzione online e conquistare la ragazza che desideri, non devi fare altro che seguire i semplici step del metodo e in men che non si dica ti ritroverai il sistema di messaggistica letteralmente intasato. Ci vediamo dall'altra parte!